Diciamo che oggi è con orgoglio che il gruppo Ebano riceve questo premio che è molto di soddisfazione perché sono anni che investiamo sul modello organizzativo, sulle risorse, sulle competenze e in modo particolare sul controllo di gestione e lo sviluppo del business. Quindi una piccola realtà che negli ultimi 5 anni si è sviluppata ha creato una struttura di management affidabile e grandi piani di sviluppo per il futuro.